Sì, non so! 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 Vogliono parlare con te, evidentemente per appianare la questione. Eh, non ho capito, chi si capisce prima si spara e poi non parlare con me! Ha, ha, ha! L'incidente tra voi due è chiuso. La pace è fatta. Nooo! 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 Ma chi te ne sanno va a un paraviso e chi non è te? Va all'inferno! Nooo! Venato me! È meglio che tu ricordi. Io mi chiamo Antonio Barracano. Io difendo gli ignoranti. Donnata, io domani mattina devo uccidere mio padre. Tu dammi soldi che mi devi dare. Tu non conosci Antonio Barracano. Quello vede la legge a modo suo. Ando, ogni tua preghiera è un ordine per me. Donnando, se permetteteci penso io. Mi hai pregato di intervenire. Intervenga. Maledetta sia la guerra. È l'ultima volta che vedi Antonio Barracano. Io sono un uomo onesto. Già. A me fatevi fatti vostri, ma non è nascendo. Brinda sanità, siamo tutta brava gente. L'uomo è un uomo quando capisce che è venuto il momento di far marci indietro e la fa. Permettetemi presento, forse in un modo un po' strano. Il mio inizio è la mia fine, il nome è Antonio Barracano. Quando arrivo si spalancano le porte. S800. Ora.